l'idea di questo libro nasce proprio da quella data da quei lunghi silenzi da quella piazza san pietro vuota da un solo uomo il santo padre è lì per pregare per l'umanità intera è stato un giorno indimenticabile ma quel giorno segnato veramente una svolta decisiva il silenzio di piazza san pietro è anche un momento in cui tutto il rumore del mondo in un certo senso si era fermato come se il mondo in quel giorno si fosse fermato che cosa è accaduto qualcosa di straordinario uno si è posto come il pastore in questo momento di grande pena di grande fatica di deserto lui si è posto davanti a tutti ed ha indicato la strada che è cristo ma si è posto anche come pastore in mezzo al suo popolo per condividere il fine in fondo il destino e poi dietro per ripescare per ricondurre al greggio coloro che erano dispersi e saper guardare a quel popolo a quel greggio che l'unico pastore sa guidare e sapere e guardare a dove il signore conduce questo grande incredibile popolo di dio questa è già storia questo non è il presente che stiamo vivendo noi stiamo già siamo dentro la storia di quello che sta accadendo la ritroveremo a brevissimo termine serviranno i documenti documenti che attestino che ricordino i libri questo sono ecco perché è stata una carta così così vincente il l'educarci attraverso i libri in questi anni e che ci hanno fatto sempre una grande compagnia tutti sanno compagnia che ci ha fatto vantuan che ci sta già facendo questo nuovo libro e non ci siamo fatti problemi qualcuno si faceva problema ma domenica scorso come vendere un libro ma no non si può alla distanza preoccupata ci mettiamo i guanti stiamo a distanti ma c'è un bisogno tale o ne abbiamo venduti già un centinaio domenica quindi vuol dire che la gente poi non si è fatto tanto problema perché la gente ha un bisogno tale di andare a fondo di incontrare qualcosa che fa bene il cuore perché è vero da cuore a cuore va veramente il cammino e la speranza ecco noi abbiamo bisogno di aiutarci a riflettere andare a fondo ed è sono sinceramente e profondamente grato all'editrice iteca per avere pubblicato i discorsi che il papa ha fatto durante il periodo della questo difficile periodo della pandemia rileggerli è stata una grandissima occasione per poter ritrovare quei contenuti e vederli adeguati alla situazione non appena nel difficile periodo che abbiamo passato ma per la quotidianità della vita le parole del papa e la sua testimonianza e i suoi gesti hanno un'incidenza nella vita di cui abbiamo bisogno per poter vivere perché il tempo presente non sia semplicemente un ritorno al passato ma sia sia l'occasione di una novità e di una intensità che questo periodo ci ha sollecitato come necessario e che non dobbiamo perdere come ipotesi è un altro contagio che si trasmette da cuore a cuore perché ogni cuore umano attende questa buona notizia è il contagio della speranza cristo mia speranza è risorto